Amo la simbologia, amo quello che può esprimere un tatuaggio e può essere interpretato semmai solo da chi lo porta o da chi l'ha disegnato e basta o semmai da qualcuno che riesce a leggere sia la persona che i tatuaggi. Amo questo lavoro, mi sento fortunato nel poterlo fare, nel poter aver creato questo studio. Alla mattina mi sveglio e sono contento di quello che faccio. Avere la possibilità di lavorare con la mia passione è qualcosa di indescrivibile e più passa il tempo più mi rendo conto che apprezzo ogni sfumatura di questo lavoro. Sono Ricky Pazienza e sono un tatuatore.